ben ritrovati a tutti amici oggi puntata davvero eccezionale abbiamo con noi alessandro di battista benvenuto ottolina tv uguale grazie di aver accettato il nostro invito grazie a voi per l'invito e un saluto a tutta la vostra comunità allora senti prima di iniziare ricordo che è uscito il tuo ultimo libro scomode verità dalla guerra in ucraina al massacro di gaza pubblicato per paper first in cui alessandro approfondisce analizza molti dei temi di cui andremo a parlare oggi in questa in questa intervista e senti per iniziare chiaramente non possiamo che partire dalla situazione internazionale e quindi dalla guerra per procura della nato in ucraina dalla pulizia etnica gaza e dalle sanzioni e dalla guerra commerciale contro la cina ecco secondo te siamo di fronte a quella che è stata da più parti definite la terza guerra mondiale a pezzi se sì quali sono le parti in conflitto e per cosa stanno combattendo e cioè è semplicemente uno scontro tra contrapposti imperialismi o c'è anche dell'altro no senz'altro poi ovviamente nella vita tutto è relativo e noi viviamo teoricamente in pace anche se poi le scelte belliciste le subiamo anche noi come pubblica opinione italiana rispetto al nostro sistema sanitario scolastico mi è capitato ieri di andare in un pronto soccorso in un ospedale importante a roma e veramente da mettersi le mani nei capelli uno spettacolo indecoroso per un paese teoricamente che fa parte del g7 cioè fa parte del g7 teoricamente diciamo dei paesi più ricchi e con uno stato sociale importante se invece vivessimo a gaza ci sentiremmo parte e forse non della terza guerra mondiale a pezzetti ma non so di una guerra nucleare perché quello che sta arrivando alla popolazione palestinese quello che è arrivato più o meno agli abitanti hiroshima e nagasaki questa è la realtà quello che sta succedendo a livello globale questa è la mia lettura che determinato sistema eh gemone eh capitanato da come paese dagli stati uniti d'america ma poi io dico sempre che ci sono eh soprattutto negli stati uniti d'america dei dei poteri che sono più potenti della stessa casa bianca eh il famoso apparato americano i servizi segreti quello che Eisenhower definiva compresso militare industriale e Eisenhower mise in guardia la pubblica opinione le istituzioni americane da un'eccessiva influenza esercitata dal compresso militare industriale già quando lasciò la casa bianca dopo il suo credo secondo mandato credo fosse il 1962 o 63 credo dopo Eisenhower arrivo che posso sbagliarmi però e disse appunto occhio che qui ci sono delle strutture pubbliche e private poi si intrecciano troppo potenti i servizi segreti fabbriche di armi all'epoca non c'era il capitalismo finanziario perché io mi batto sempre ricordando quelli che sono quelli che sono i principali investitori istituzionali del fabbriche di armi sono sempre gruppi finanziari per lo più nordamericani anche canadesi banche d'affari black rock black rock gestisce un patrimonio di 9 mila miliardi di dollari quanto il prodotto interno lord di francia germania e italia messi assieme siamo di fronte a un potere pantagruelico gigantesco è complicato poi combattere un potere del genere e dato che però il cosiddetto sud del mondo i paesi che un tempo definivamo in via di sviluppo in realtà erano via di sviluppo per noi per il primo mondo e oggi si stanno organizzando si stanno ribellando i colpi di stato in africa vanno letti in chiave di coloni diciamo di decolonizzazione non in chiave come i colpi di stato imperialisti sostenuti dalla cia o dai servizi segreti britannici secolo scorso è un altro mondo un mondo che si sta ribellando in egemonia sempre più barcollante soprattutto poi gli alleati degli stati uniti poi gli stati uniti continuano ad essere un'economia molto forte ma l'europa è veramente un continente bello e inutile per parafrasare il professore della meglio gioventù un professore universitario dunque che cosa è cosa sta avvenendo che chi ha avuto egemonia e sta pensando che 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 è a rischio cerchi in qualche modo di di continuare ad esercitarlo per questo la guerra per procura come l'avete definita voi che è stata ampiamente alimentata dal blocco occidentale mi riferisco a quello in ucraina che non si io poi non ho mai giustificato putin per la guerra d'invasione perché si tratta di guerra invasione per me sono tutte indecenti le guerre invasione semplicemente noto che quando sono gli americani di invadere non si parla mai di guerra d'invasione si parla soltanto di guerra invasione quando sono i russi ad invadere ma comunque che sia stata alimentata che sia stata favorita che abbiano soffiato sul fuoco abbiano buttato benzina sul fuoco dal colpo di stato dell'euro maidan ad oggi diciamo all'invasione russa e fuori di due della russia dell'ucraena e fuori di dubbio così come fuori di dubbio che hanno il più possibile israele favorito la crescita alimentato il terrorismo io ieri citando qualcuno si è scandalizzato no l'altro ieri quando erasi martedì da di martedì ho detto citato una frase non sono io l'autore il terrorismo e la guerra dei poveri mentre la guerra il terrorismo dei ricchi ma è evidente chiunque abbia un minimo a cuori ragionamento sa che quello che dico questa frase che non è mia reale quali hanno alimentato il più possibile ma neanche un disagio un un orrore che poi la reazione come dire io non la giustifico ma è da analizzare da comprendere determinate ragioni io quello che vedo che viene fatto da decenni seguo la questa in palestina decenni è come dire viene provocata sempre di più una reazione palestinesi sulla quale poi costruire la rappresaglia definitivamente violenta israeliana come dire fanno così no ti distruggo una casa ti butto l'acqua il cemento nel pozzo d'acqua ti caccio tua nonna ti arresto tuo figlio di 14 anni me lo tengo 15 anni in carcere ti blocco la scuola faccio tutte queste robe così quando c'è una reazione uno che tira un sasso o da una coltellata e ci sono queste reazioni ripeto nessuno ne giustifica e poi su queste reazioni gli israeliani costruiscono la rappresaglia bene hai dato una cosa hai accoltellato un poliziotto adesso muori e quindi faccio una strage mando il drone al campo prof di genin e sto parlando della cis giordania dove teoricamente l'ala militare di hamas neppure esiste cioè questa è la realtà ed è tutto concatenato e vi faccio la parola perché sostengo che le guerre durature eh siano la manna per le industrie belliche eh Assange disse eh rispetto alla guerra in Afghanistan l'obiettivo non è una guerra di successo ma una guerra duratura perché solo la guerra duratura consentirà di eh far passare del denaro dalle tasse dei contribuenti nordamericani e europei direttamente in quelle che Assange definiva trasnazionali della sicurezza internazionale coloro che si arricchiscono grazie alle armi ecco vedete chi sono i produttori delle armi che vengono sia usate per prolungare il conflitto in Ucraina e nessuno vuole il negoziato non perché ha ancora eh qualcuno non so non perché si pensi ancora alla vittoria ucraina ma perché la guerra duratura arricchisce e coloro che vendono armi agli israeliani sono le stesse fabbriche nordamericane gli F35 che hanno colpito addirittura l'edificio di un'ambasciata iraniana a Damasco vengono prodotti dalla Lockheed Martin che è la principale fabbriche di armi del pianeta la più grande al mondo che vende anche armi vende da armi all'Ucraina ma queste armi vengono pagate grazie ai denari ai contribuenti eh europei o nordamericani il 64 per cento dei denari spesi dal congresso americano per acquistare le armi da inviare a Kiev ritornano nelle casse delle dell'industria bellica americana è un giro no un giro mefistofelico che viene fatto che viene portato avanti grazie alla narrazione bellicista cioè le tv che cercano di convincerci la strategia giusta sta funzionando i russi combattono quelle pale e presto Zelensky marcerà sulla piazza rossa e sarà l'unico a aver sconfitto la russia dopo che non c'è sconfitto non c'è riuscito né napoleone intera ci riuscire a Zelensky fake news senti no volevo capire un attimo se dal tuo punto di vista anche questa è un po anche la lettura che facciamo di solito noi no che in qualche modo appunto hai parlato di decolonizzazione hai parlato di provocazioni e reazioni a provocazioni è parlato anche di finanziarizzazione non hai citato uno delle nostre parole più citate in assoluto che è black rock mi chiedevo un attimo se dal tuo punto di vista diciamo il conflitto allargato che c'è al di là diciamo dell'interesse immediato dell'industria militare per appunto ad esempio black rock diciamo dei suoi 9 mila miliardi sono una parte abbastanza infinitesima riguarda l'industria bellica e tanto riguarda tutto il resto mi chiedevo un pochino se da parte secondo te c'era anche proprio un conflitto abbastanza sistemico tra appunto un sistema capitalistico completamente finanziarizzato dove appunto questi grandi monopoli finanziari sono quelli che dettano la linea e un mondo tutte le sue criticità contraddizioni bla 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 però diciamo è tenuto insieme da un fattore strutturale che è quella del predominio della politica e dello stato e quindi su sull'economia su sulla finanza no e quindi anche dell'economia reale sulla sulla finanza no mi chiedevo un po' se questo può essere una chiave di lettura anche secondo te del conflitto sistemico beh la cina dato che prima tu hai citato la cina è senz'altro un paese capitalista dove però comanda un partito come dire esattamente quello dicevi tu la supremazia il primato c'è la poli la politica in un certo senso anche se poi certo possiamo certo definire un paese comunista al cento per cento tu pur non lo so se questa è la lettura senz'altro è senz'altro c'è questo senz'altro ci sono determinati paesi che vengono sempre colpiti vilipesi si parla delle violazioni di diritti umani in venezuela dove ci sono senz'altro una serie di problemi o a cuba dove in questo momento ci sono delle tragedie enormi ma si dimentica tutto quel che buono di buono hanno fatto questi paesi negli ultimi 60 anni addirittura di più mi riferisco a cubo 30 anni durante l'epoca di chavez il venezuela e non è che le sanzioni e gli attacchi che hanno ricevuto questi paesi li hanno ricevuti in realtà per le violazioni di diritti umani che ci sono in tantissimi altri paesi anzi in altri paesi latinoamericani addirittura maggiori li hanno appunto subite perché tentavano di sì dare i primati in questo senso hai ragione privato alla politica rispetto all'apparato finanziario basti pensare alle nazionalizzazioni petrolifere gli americani insieme ai britannici fecero un colpo di stato a teheran e rimossero un presidente legittimamente eletto all'epoca dello shah si chiamava mussadek ed era un laico neanche un all'epoca c'era appunto lo shah di persia e lo riuscirono a rimuoverlo perché lui aveva osato nazionalizzare l'industria petrolifera iraniana la famosa anglo persian oil company che poi è diventata la british petroleum e aveva nazionalizzato anche la raffineria petrolifera di abadan che si trova diciamo su un fiume al confine con con l'ira che lo sono andato a visitare ci ho fatto un documentario per questo l'hanno rimosso jacopo arbenz presidente legittimamente eletto in guatemala venne rimosso tramite un colpo di stato organizzato dalla cia che utilizzò i paramilitari che entrano dall'honduras come vedete le guerre ibride non se le sono inventate negli ultimi due tre anni perché osò nazionalizzare la parte dei territori incolti che appartenevano alla united free company l'attuale cichita tra l'altro c'erano delle connessioni tra i fratelli come si chiama l'andals se non sbaglio il numero uno della cichita l'attuale cichita era fratello se non erro del numero uno della cia c'è queste robe clamorose ma chi studia la storia le sa conosce appunto pensiamo anche alla nazionalizzazione industria del rame una delle ragioni per le quali viene fatto fuori salvador rayanne dal cine dunque è evidente che anche oggi vi è tutta questa roba qui i paesi che tentano di ribellarsi al predominio della finanzia diventano chiaramente i cattivi da mettere dietro la lavagna da eliminare e ci sono tanti modi per tentare di imporire le sanzioni i colpi di stato i tentativi di colpi di stato pensate alla vicenda guaidò quel buffoncello che è finito proprio nell'oblio della storia e golpista tra l'altro e oppure quando ci sono paesi così importanti anche organizzati in un certo senso è più difficile fare un colpo di stato a mosca ci sono altre tecniche per questo hanno alimentato la guerra l'hanno alimentata da quando hanno sostanzialmente fatto fallire gli accordi di mische ma io sono stato in non in donbass però a belgoro da parlare con i rifugiati del donbass ti dicono delle cose che è il loro punto di vista non è il vangelo ma loro ti dicono putin si è svegliato tardi ti dicono questo è stato troppo moderato abbiamo passato anni a subire massacri lui non si svegliava perché voleva fare i campionati di calcio in russia che poi ha fatto 2018 se non sbaglio la finale francia che era la francia croazia allo stadio rusnichi dove poi putin va a parlare quando ci sono gli anniversari della dell'annessione della crimea oppure aveva gli accordi con la merkel per il nostro in due dunque putin si è mosso in maniera moderata per diversi anni nonostante gli stessero sabotando determinati accordi perché non voleva rompere con l'occidente poi a un certo punto ha preso quest'altra decisione perché vedeva che la situazione per lui e per gli interessi strategici della russia quasi esistenziali perché questa è una guerra esistenziale erano la situazione troppo complicata io non giustifico cerco sempre di dare l'altro punto di vista per questo andai russi a fare i documentari l'altra parte dicendo con due anni d'anticipo guardate l'industria bellica russa da gonfie vele qua io visitavo le zone dove ci sono le principali fabbriche di industria pesanti negli urali dicevo qui stanno assumendo persone cioè mentre la repubblica scrive non c'hanno le armi non c'hanno i patatini fritte non c'hanno il combattono con le pale io vedevo che assumevano le persone grandi fabbriche belliche russe quindi perché assumevano le persone se non ci stava lavoro e raccontavo questo per questo mandato il filo putiniano e oggi legge dei giornali gli altri ufficiali dell'esercito ucraino vicini a saluzni dicono qua la situazione è compromessa il problema non sono neanche più le armi e basta evidente ci hanno bisogno di armi diciamo lo spazio aereo viene controllato dai russi che neanche hanno bombardato ad oggi come avrebbero potuto grazie a dio ma il problema sono gli uomini stanno finendo i ragazzi c'è una cosa inaccettabile proprio si fa la guerra utilizzando gli ucraini come carne da cannone e coloro che dicono stiamo dalla parte degli ucraini slava ucraini viva l'ucraina postano le bandiere su facebook in realtà sono i nemici dell'ucraina perché sono coloro che hanno avallato la strategia di come dire di bloccare i negoziati più di una volta c'era l'opportunità di arrivare al negoziato le negoziate sono stati boicottati essenzialmente dagli americani e dai britannici perché poi il paese che maggiormente si arricchisce che il paese che ha sempre essendo un paese europeo comunque che ha sempre temuto questo avvicinarsi questa possibilità di avvicinamento tra germania e russia un disastro della gran bretagna ancora di più degli stati uniti america no mi chiedevano se visto che anche oggi c'era una bella intervista luciano canfora sul corriere se non mi ricordo male dove appunto in qualche modo sottolineava appunto un po la contraddittorietà no del mito che abbiamo no della democrazia tenese diceva comunque una dittatura di una minoranza poi all'interno quella minoranza li aveva meccanismi diciamo di gestione del potere democratici ma appunto tra una stretta minoranza siccome appunto il tema della democrazia e della libertà diciamo un po la bandiera ideologica con cui si cerca un po di giustificare la politica estera mi chiedo se a tuo avviso diciamo i nostri paesi l'occidente collettivo no sto termine un po vago però insomma per capirci sia ancora definibile democratico o quanto diciamo in qualche modo la distorsione del linguaggio si è arrivata appunto al punto che è diventa democratico qualsiasi paese che in qualche modo è dominato dalle oligarchie e diventa automaticamente autoritario qualsiasi paese che ha un potere statale diciamo che può essere autoritario o meno ma è secondario ma che ha il potere di mettere un po a bada no gli appetiti delle delle stesse oligarchie allora innanzitutto è importante partire dalla storia non mi non mi riferisco alla democrazia tenese sulla quale non sono sufficientemente informato ma per esempio si giudica si reputa la russia non una democrazia nord europea ma una autocrazia questa roba qua senz'altro non è una democrazia compiuta poi per me non è neanche l'italia una democrazia compiuta un post luoghi dove ormai oltre 50 per cento della popolazione non vota più che si potrebbero più definire democrazia perché sono le minoranze organizzate le oligarchie spesso che determinano determinate decisioni comunque senz'altro in russia quando ci sono andato ho parlato con delle persone che mi dicevano determinate cose per il mio documentario mi dicevano però non voglio apparire perché ho paura dell'apparato questo me l'hanno detto è difficile trovare in italia cittadini comuni che per strada non ti rispondano non voglio dire questa roba sulla meloni perché ho paura esiste pure perché qualcuno magari lavora nel pubblico in certi settori alcuni militari mi scrivono su instagram alcuni militari a che vergogna devo oggi fare non lo so stare qui davanti all'ambasciata israeliana con tutto quello che fanno me lo scrivono alcuni però non è che c'è il timore la censura avviene in un altro modo più subdola fatto sta che la russia non è una democrazia compiuta però io ricordo la storia fino a pochi anni fa c'era un'unione sovietica era un altro sistema l'iran è una democrazia l'iran no esiste la guida suprema è una repubblica islamica però è che per me non è giusto giudicare tutti i paesi con i nostri parametri dall'altro non è neanche la rabbia suddita però è un alleato pensate all'ipocresia dei dittatori erdogan è un dittatore mi comunque certo non è mandela pure lì mandela fino ad aver vinto adesso riuscito dal carcere viene considerato qualcuno addirittura un terrorista in sud africa però ecco erdogan va bene perché la turchia fa parte della nato va bene il massacro magari degli armeni va bene perché gli abbiamo dato un sacco di quattrini credo fosse il 2016 oltre 6 miliardi per gestire i flussi migratori i profughi siriani non facciamoli arrivare in europa teniamoli lì e diamo dei denari a erdogan tant'è che chi visita istanbul le nota queste cose bambini disperati che nei sottopassi che stanno lì aspettano un pezzo di pane tanti bambini siriani dopo il terremoto ancora di più ci sono stato anche durante il terremoto subito dopo il terremoto e ho visitato anche il nord della siria quella zona terremotata invece vedendo delle delle immagini che poi vediamo uguali peggiori soltanto a gaza alzisi alzisi è un dittatore alzisi ha fatto un colpo di stato in egitto eliminando dissidenti politici gente che era stata poi tra l'altro democraticamente eletta perché la fratellanza musulmana con tutti i difetti che aveva comunque ha vinto le elezioni poi siccome erano troppo anti occidentali troppo filo palestinesi anche questo è un tema è stato avallato quel colpo di stato quindi ci sono i dittatori buoni e quelli cattivi questa è l'ipocrisia e soprattutto io sostengo l'ho scritto anche nel libro che il silenzio complice anzi la copertura politica militare mediatica che il blocco occidentale ha dato ai massacri io li definisco fanatici messianici terroristici israeliani a danno della popolazione palestinese e questo proprio è gioco partito incontro cioè la credibilità del blocco occidentale non esiste più prima potevano un po' nascondersi da una parte il bene della parte il male democrazia contro terrorismo democrazia contro autocrazia queste robe qui che è storytelling non è realtà oggi di fronte a quello che stanno facendo degli israeliani teoricamente una democrazia no dicono l'unica democrazia in medio oriente ma il fatto che sia una democrazia commettere un tentativo di polizia etnica come l'hai chiamato tu ma questo aggrava la posizione che dice a siccome la democrazia non lo può fare il ragionamento è esatto contrario ecco tutto questo dimostra purtroppo definitivamente poi noi ragazzi lo diciamo da tanti anni l'abbiamo capito il giochetto ipocrita da tanti anni però mostra ormai l'ipocrisia dell'occidente quello che dice il presidente colombiano disse alcuni mesi fa una dichiarazione cioè gli occidentali non possono più parlare di democrazia dopo lo scimpio a gaza c'ha ragione gustavo c'ha ragione o lula ha detto una roba del genere come si può accettare come può il blocco occidentale i paesi democratici accettare questo che è un genocidio parlano poi evidente che nessuno stia facendo nulla di concreto neanche i paesi arabi neanche i paesi arabi stanno possibile non hanno fatto un embargo reale petrolifero ai paesi magari che sostengono israeli hanno fatto niente neanche i paesi arabi figuriamoci il blocco occidentale che chiacchiera chiacchiera oggi iniziano a chiacchierare perché inizia a chiacchierare biden pure trump ha detto ho letto forse non so se devo verificare se si è vero la dichiarazione però ha preso leggermente iniziato a prendere leggermente qualche distanza dalla carneficina di gaza leggermente dopo che hanno ammazzato tra l'altro degli stranieri che fino a che i 30 mila morti erano tutti i palestinesi arabi con la pelle diversa della nostra andava bene invece adesso che hanno ammazzato sette disgraziati che vergogna lì hanno fatto apposta chiaramente l'attacco per lanciare un messaggio non venite neppure ad aiutare i palestinesi perché morite questo è il messaggio per ecco dopo qualcuno siccome sono indignati le pubbliche opinioni qualcuno parla ma perché parlano oggi perché anche parlano rispetto a qualcuno anche qualche dichiarazione diversa rispetto all'ucraina oppure perché qualcuno in maniera ancora più cinica sostiene dice dichiara guardate che siamo pronti a inviare militari nato in ucraina tipo macron intanto buttano il sasso per me pensate questa è la ucraini per farli arrivare o resistete almeno tanto morite voi resistere fino alle elezioni europee resistete finale presidenziale americane non il fronte non deve crollare nei prossimi mesi perché che figura ci facciamo ad arrivare alle presidenziali con l'ucraina crollata o con non lo so i russi che avanzano ancora di più o con una resa che figura ci facciamo come possiamo difendere quelle posizioni al parlamento europeo quel parlamento europeo che ha votato da poco una risoluzione prima firma credo la pcr non del partito omografico vicepresidente del parlamento europeo che ha scritto dove c'è scritto che l'obiettivo è riconquistare tutti i territori crimea inclusa che figura ci facciamo ecco questo è il cinismo di fronte a questo cinismo chi studia la storia i colpi di stato guardate che dalla fine della seconda guerra mondiale in poi i principali assassini a livello globale sono stati paesi democratici non sono stati mica le dittature poi certo sono state dittature assassine però se facciamo un conteggio ahimè numerico che ha fatto le stragi peggiori i paesi teoricamente democratici stati uniti soprattutto ma anche gran bretagna francia quello che hanno fatto i francesi penso la guerra d'algeria i paramilitari francesi questo è quanto questa è la storia il resto della propaganda televisiva alla quale francamente credono sempre meno persone mi chiedevano da questo punto di vista quali siano i margini no all'interno del quadro istituzionale appunto te sei stato tra i principali leader di una forza che ha raggiunto diciamo un consenso popolare elettorale gigantesco no e quali sono però all'interno delle compatibilità istituzionali che abbiamo oggi no euro unione europea nato alleanze sotto alleanze accordi di libero scambio quanto diciamo si riesce anche con una forza genuinamente democratica e popolare in qualche modo a spostare l'asse diciamo gli equilibri all'interno appunto delle compatibilità istituzionali di come funzionano oggi le istituzioni e se non ci si riesce quale altra strada è possibile percorrere allora io la strada che sto adesso anche per scelte mie professionali umane eccetera di studio di voglia di aver tempo per approfondire ho scelto per adesso per la mia vita un'altra strada che pure appunto dell'approfondimento diciamo della divulgazione delle battaglie politiche che chiamano in questo modo al di fuori delle istituzioni che per me sono credibili mi permettono di vivere bene di campare di mandare avanti una famiglia di sentirmi fiero di quello che faccio di non dover dire grazie a nessuno e anche di studiare approfondire questa è la realtà però io non sono di quelli che io non sostengo che vi siano anche se infinitamente ridotti rispetto magari addirittura alla prima repubblica degli spazi di manovra anche all'interno delle istituzioni vi faccio due esempi con il movimento 5 stelle all'opposizione durante quei cinque anni strategia bellicista oppure come non c'è la contrope io sono convinto che se non ci fosse stato il movimento 5 stelle parlo di quello all'opposizione che ho fatto solo quella legislatura quando vi furono i bombardamenti in siria eccetera di alcuni paesi blocco occidentale chi lo sa magari senza il movimento 5 stelle l'italia sarebbe accodata d'altro canto si è accodata in afghanistan si è accodata in iraq si è accodata in libia andando contro i propri interessi strategici un altro esempio con il movimento 5 stelle al governo io lì onestamente dissi la mia facevo ancora parte diciamo tra i dirigenti anche se poi non abbiamo mai avuto una struttura partitica quantomeno non c'era allora l'italia fu l'unico paese europeo sono sbaglio che non riconobbe guaidu presidente autoproclamato del venezuela nessuno poi quasi si ha paura a rivendicare quella scelta giusta perché guaidu è finito era come dire un una creazione dell'apparato americano che addirittura per me ha illuso gli americani c'era trump facendogli credere che avesse chissà quale sostegno popolare io lo dicevo guardate questo non se lo fila nessuno anche coloro che detestano il sistema politico venezuelano detestano maduro maduro non è certo amato quanto ciavez anzi ha commesso una valanga di errore c'è gente che lo detesta anche coloro che lo detestano ma che sono innamorati di guaidu è come dire non so renzi è una uno che fa opposizione tra virgolette la melonia tanti sono antimeloniani in questo caso quanti sono renziani questo era il senso insieme guaidu ha pure illuso l'amministrazione trump comunque vi facevo degli esempi di alcune azioni che sono state fatte corrette corrette in quegli anni non semplici da fare da portare avanti un mucchio di pressioni arrivano io nel monologo su assange stasera starò a taneto di gattatico ho scritto un monologo su assange sulla narrazione bellicista su delle robe passate io tiro fuori di documenti che ha pubblicato wikileaks su le pressioni americane verso le istituzioni italiane per spingerci in guerra mi riferisco alla guerra in iraq 2003 e e poi parlo anche di mattei e ricordo la storia di mattei dell'eni e ricordo le pressioni che un altro ambasciatore americano che si chiamava alexander kirk dopo la vittoria statunitense durante la seconda euro mondiale ha esercitato chiaramente su mandato del dipartimento di stato americano e delle compagnie petrolifere per convincere le istituzioni italiane a liquidare l'agip e poi si è opposto mattei e addirittura arrivo a creare leni nel senso queste robe ci sono sempre state ci sono tuttora wikileaks pubblicava i documenti realizzati dalla cia con il dove vi era scritta nero su bianco la strategia che suggeriva la cia al sistema mediatico e politico francese e tedesco per far digerire la pubblica opinione la guerra in afghanistan una guerra comunque molto più lontana sotto tanti punti di vista rispetto alla guerra in ucraina pensate che oggi delle stesse strategie mediatici non siano state sviluppate per convincerci appunto della bontà della strategia occidentale in ucraina questa roba è lo sappiamo ripeto che studia la storia che si informa vedere un po alternativa non soltanto tramite il tg1 certe robe le conosce quindi per concludere appunto che poi vago volo troppo da un argomento all'altro evidente che questa divisione del mondo tra bene e male tra democrazia e autocrazia sia ipocrita non perché non esistano dittature per l'amor di dio e sanguinari ma perché anche i dittatori sanguinari se sono amici dell'occidente vanno bene mentre invece i dittatori anche meno sanguinari di quelli sanguinari se portano avanti altre idee diventano ancora più sanguinari e sanguinari e questo è il paradosso totale questo è quanto mi chiedevo e poi do la parola alessandro un'ultima cosa se diciamo rispetto appunto a quell'esperienza anche sottolineare alcuni risultati insomma anche simbolicamente forti ottenuti no sia dall'opposizione che dal governo del movimento 5 stelle per appunto magari non essere riusciti a dare una continuità no insomma a fare il passo oltre in qualche modo rispetto appunto hai sottolineato no non è non siamo mai stati un partito quindi diciamo già definirmi dirigente insomma è già complicato insomma non c'era questa mi chiedo se dal punto di vista sia della struttura culturale teorica ora ideologica non si può più dire quindi non lo diciamo nemmeno noi però in realtà sarebbe una parola più che degna sia dal punto di vista proprio organizzativo strutturale diciamo rispetto a quell'esperienza lì insomma hai maturato un po l'idea che ci vorrebbe qualcosa di un po più solido no strutturato io sono figlio dal protista ideologico e anche etico di gian roberto casaleggio è lui che mi ha forgiato mi ha plasmato mi ha dato le più grandi opportunità della mia vita mi ha mi ha insegnato tante cose ma gian roberto era un fautore della struttura e dell'organizzazione con anche una visione anarchica positivamente parlando della della politica nel senso non è che non essere una struttura partitica modello ottocentesco novecentesco fosse sinonimo di disorganizzazione ma oggi come oggi c'è l'opportunità attraverso la rete su un mucchio di sistemi diversi di creare delle nuove organizzazioni che soprattutto possano consentire di tentare di intervenire sul principale cancro delle nostre democrazie che non sono i partiti disorganizzati anzi ci sono dei partiti sono macchine da guerra tutt'oggi ma è il sentimento la consapevolezza purtroppo reale da parte dei cittadini dell'inutilità della partecipazione politica del voto questo è il punto quando ci prendevano per il culo dicendo va chiedete la rete agli iscritti poi era anche questa narrazione di sistema ma che voi pensate quando ho fatto il parlamento della repubblica prima di votare un emendamento faceva la telefonata a casa come a chi vuole essere miliardario ridicolo avevamo delle linee programmate con programma che avevamo costruito non soltanto noi portavoce dei cittadini in parlamento ma tutti gli iscritti e andavamo avanti su quella linea e la linea era chiara l'essenziale avere delle linee chiare e costruirle democraticamente io ricordo nel libro quando berlinguer in una festa dell'unità credo a tirrenia parlò di israele e palestina e le feste dell'unità che erano comunque dei momenti anarchici tra virgolette no e chi arrostiva la salamella chi ballava musica popolare chi partecipava a un dibattito politico ma erano congressi congressi attraverso i quali si costruiva la linea del partito oggi qual è la differenza la linea del partito organizzano quattro dirigenti magari chiamando pelle croc o chiamando qualche altro pezzo grosso della finanza delle banche in italia e dicono che cosa fare l'epoca era diverso ripeto io poi non sono mai stato comunista pur rispettando i comunisti veri come ve lo dicevo prima quando eravamo offline e questo è quanto quindi io quando dico siamo contro dicevo con combattiamo la partitocrazia cioè combattiamo esattamente quella quel sistema sempre per ricordare berlinguer l'intervista che rilasciò a scalfari sulla questione morale che ormai ha occupato tutto i partiti di se berlinguer era l'81 credo l'intervista hanno occupato tutto hanno occupato le banche hanno occupato le istituzioni hanno occupato la televisione hanno occupato le università c'è questa roba qui e quanto sono organizzati organizzatissimi il tema è riuscire a coniugare l'organizzazione la strutturazione che è fondamentale ad una partecipazione davvero democratica l'uno vale uno che è stato sempre prima sbeffeggiato poi rinnegato ma per me ha senso cioè il concetto è tutti hanno lo stesso identico diritto a partecipare e ad esprimere un voto per la costruzione di un programma poi non è che tutti debba fare per forza tutti la stessa cosa questo è sciocco guardate una squadra di calcio e sono 11 figuriamoci milioni di persone che partecipano attivamente a un movimento politico di massa perché il momento 5 stella all'epoca fu un movimento politico di massa milioni e milioni di voti ma il senso appunto è riuscire a organizzare una struttura che consenta al cittadino di sentirsi partecipe altrimenti non partecipa ma se non partecipa poi alla fine neanche vota più quindi alla fine che cosa è la democrazia sono quattro persone decidono a sto punto le come dire certi se si arriva se si dovesse arrivare a un sistema dove non lo so voteranno il 20 per cento dei avanti diritto a sto punto è più come dire meno ipocrita la monarchia l'ultimissima sempre su questo poi lascio la parola alessandro perché appunto ti sei messo a fare un lavoro che diciamo un po un po simile tra tra virgolette insomma quello che cerchiamo di fare anche noi che in qualche modo appunto la nostra idea è stata quella sostanzialmente noi siamo un po' dove centeschi a noi ci piacerebbe un partito però non ci sono le condizioni in qualche le precondizioni no per un partito in qualche modo quindi diciamo abbiamo cercato stiamo cercando no con i nostri piccolissimi mezzi di fare di creare un luogo dove anche robe che oggi si dividano in gruppuscole insomma no super identitari super settari eccetera trovassero un po ricostruissero un vocabolario comune in qualche modo che potesse tenere dentro sensibilità diverse appunto riattivasse in qualche modo un processo di partecipazione di elaborazione anche una partecipazione senza anche proprio di elaborazione mi chiedo un attimino cioè che dal punto di vista quello che stai facendo te che tipo di sbocco nel tempo pensi possa avere c'è con cosa ti piacerebbe fare da grande continuando a fare quello che stai facendo ora allora io io sono sono già grande e sono molto realizzato in questa fase della mia vita credetemi ragazzi dopo aver detto dei no che mi sono costato scostati tanto credetemi non vi dico balle certi non mi sono costati tanto e fino a che non adesso che è arrivato da qualche anno la possibilità di raccogliere certi frutti che ho seminato che ho seminato io le persone che mi hanno aiutato a prendere decisioni giuste adesso io vedo bene il percorso ci sono stati dei momenti in cui dicevo ma che cazzo hai fatto quel no hai sbagliato basta questa intransigenza ma perché non sei un po più malleabile ma perché perché comunque mi sarebbe piaciuto prendere determinati treni mi sarebbe piaciuto fare il ministro mi sarebbe piaciuto partecipare a quell'attività governativa del movimento però se ho detto di no perché ce l'avevo quei no dentro facevano parte proprio della della mia essenza e oggi vedo che quei no mi hanno consentito di costruire faticosamente una credibilità sulla base anche di alcune cose che dico onestamente e anche del modo con le quale le dico con il quale dico queste cose perché vado netto e quindi oggi io non cambierei la mia vita per niente al mondo perché penso di nel mio piccolo non lo dico con modestia perché so che è un piccolo spazio però un piccolo spazio importante di avere un'importanza come voce diciamo diversa all'interno di questa democrazia che io sto utilizzando da un po' di tempo il termine democrazia deviate ricordate quando si parlava dei servizi di reti deviati dietro a strategia delle tensioni della tensione io utilizzo questo per rispondere anche per riprendere la domanda che mi hai fatto prima ci sono democrazie deviate e contro autocrazie sono molto più simili quello che pensiamo e allo stesso tempo abbiamo creato un'associazione culturale che si chiama schierarsi che fa un lavoro che fate voi dal punto di vista dell'approfondimento culturale importantissimo in più facciamo delle attività di attivismo civico ora stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello stato di palestina dato che per noi è qualcosa di importante e vedremo se questa organizzazione dovesse crescere senza l'idea ecco ci sono le elezioni domani dunque dobbiamo sbrigarsi per accogliere firme presentarci perché per me questa roba non funziona e non giudico chi invece sta cercando di farla assolutamente per me non funziona però se nei prossimi due anni dovesse crescere dovesse strutturarsi in un modo giusto faremo le valutazioni io sono convinto che se un domani dovessi dire guardate abbiamo intenzione di presentarci a questa elezione perché abbiamo voglia di fare questa roba comunque magari ci voteranno non lo so però le persone sicuramente sarebbero come dire coscienti del fatto che tale decisione non voglio spiegare bene io sono convinto di aver dato in questi anni un'immagine volte anche sono stato attaccato per questo di persona eccessivamente staccata dalla poltrona non attaccata staccata addirittura me ne hanno fatto me ne hanno fatto una colpa c'avevi il movimento al 30 per cento e te ne sei andato non ti sei assunto determinate responsabilità tutte scemenze per me queste perché quando io non mi sono ricandidato l'idea mia era tornare ricandidato io non dicevo basta dicevo magari tra cinque anni però in quel momento avevo proprio desiderio di lasciare quel palazzo e tornare nella vita reale però non escludevo il ritorno per citare chi è chi è il califo che la notizia che è della canzone non esclude il ritorno è di franco califano sì credo e credo addirittura che si sia fatto scrivere il califo sulla tomba non esclude il ritorno credo che veramente se è così una genialà quindi non escludevo il ritorno però neanche presi quella decisione con l'idea vi ricordate scrivissero la strategia adesso lui va lui cinque anni di maio poi arriva lui non fu strage anzi luigi si arrabbiò moltissimo quando io dissi al movimento io non mi ricandido però avevo proprio bisogno di uscire da quel palazzo che a me un pochino mi toglieva ossigeno allo stesso tempo vi dico appunto che qua se dovessi dire guardate domani abbiamo intenzione di candidarmi le persone penserebbero ok non lo fa per perché è attaccato alla poltrona lui perché proprio di lui non si può pensare lo vuole fare perché ha questo interesse civico poi magari non voteranno e decideranno no non mi piacciono le loro idee però sono convinto che questo le scelte che ho preso hanno costruito una possibilità una credibilità che poi veramente se ci pensiamo bene è la cosa più importante di tutte sia se si fa informazione che si fa attivismo politico e se si fa politica la credibilità è quella che manca io per me è loro è anche come dire il mio core business in un certo senso che non significa quel che dico io sia vangelo è tante persone ho cambiato pure opinione ho detto delle cose poi mi sono reso conto che non erano corrette però io le persone che mi fermano per strada mi dicono non la penso magari come te però si vede quello che tu dici e quello che pensi ma guardate questo è un è un bel appestato di stima perché io i politici con i quali vado magari alle volte mi confronta alcuni si dicono determinate cose perché le pensano altri credetemi ti dicono delle cose al di fuori del live che sono guarda su questo c'è ragione però io questo non lo posso dire questo è il concetto credetemi è così ale vai vi posso raccontare un'aneddoto divertente vai 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 farvi capire no io anni fa ero parlamentare le raccontano ogni tanto come si sta cosa ero parlamentare e fece un intervento in aula e dissi puniti ci sanzionati ma prima cacciate i ladri di forza italia perché berlusconi è stato condannato per foto fiscale apri di cielo bordello casino e quindi parte partono due tre deputati del di forza italia cercavano per raggiungere darmi un ceffone con i miei colleghi mi fanno la cordone di sicurezza e poi a un certo punto però un parlamentare forza italia riesce a infilarsi e il cordone si avvicina a me credo è che il suo nome fosse deputato chiarelli però mi posso sbagliare si avvicina verso di me con lo sguardo come di adesso mi era uno spintone io penso adesso se mi da un cazzotto mi butto giù simulo così poi passo passo a lui dalla parte del torto guardiamo 3 per cento e alzo subito le mani tipo gandiano io ero proprio più sono alto sono grosso era molto più grossi lui alzo le mani così e lui mi guarda non sa che fare le alza pure lui in questo modo io gli ho dato dei ladri e mi dice questa frase per farvi capire com'è anche in un certo senso l'omertà in certi ambienti o l'omertà politica no mafiosa in certi ambienti politici mi dice in maniera tratto molto simpatica di battista non generalizzi noi di forza italia non siamo tutti ladri mi disse questa frase come dire cioè ci stanno le persone anche oneste e io gli risposi ditemi chi sono i ladri e chi no e facciamo prima cioè tante volte in parlamento pensate soprattutto esponenti del centrodestra mi dicevano guarda che hai ragione perché io poi le battaglie sull'afghanistan l'ho sempre fatta hai ragione su questa roba siamo schiavi degli americani però che dobbiamo fare e però mi dicevano non c'è niente da fare anzi ricordati che non potrai diventare ministro se prima non fai un viaggio a washington mi dicevano quindi mi raccomando va io a che c'entra washington con massimo rispetto io mi presento alle elezioni della repubblica italiana che c'entrano gli americani lo so e noi che facevo l'ingenuo e non è che fossi ingenuo però ecco questa distanza tra quello che si dice e quello che si pensa è una roba che che poi la gente percepisce dunque io mi invito sempre ad essere credibili netti poi uno può dire mi sono sbagliato ho fatto delle previsioni sono state sbagliando un sacco di volte e quindi ho detto mi sono sbagliato sulla base di questo però non ho mai sbagliato in mala fede ho detto una cosa perché era conveniente dire quella cosa rispetto ad un'altra poi magari ho detto una cosa che si è rivelata sbagliata però ho sempre detto quello che era giusto per me dire non quello che mi conveniva e senti ale per concludere io ti volevo ti volevo chiedere questo e cioè te prima hai menzionato una delle parole che forse dovrebbero essere una delle parole guida no in questa fase è quella dell'interesse nazionale no anche perché spesso il dibattito pubblico a mio avviso almeno è un po' drogato da discorsi o moralistici o estremamente astratti come se guardassero le cose dall'esterno che invece anche dal punto di vista comunicativo credo che non lasciare questa parola che la parola fondamentale è la parola anche della nostra costituzione eccetera eccetera alla destra sia un passaggio culturale decisivo importantissimo e quindi ecco ti volevo chiedere secondo te dato che il nuovo ordine multipolare è una realtà che volente o nolente si sta già formando quale sarebbe in questa fase l'interesse nazionale italiano in alternativa a quello che sta venendo fatto e credi che possa essere perseguito in questo momento e in futuro all'interno della nato e all'interno dell'unione europea non è una domanda diciamo retorica c'è una domanda è una domanda vera e volevo sapere un po la sua vuole sapere un po la sua opinione su questa questione fondamentale allora è molto complicato perché fondamentalmente l'italia fa parte della nato perché ha perso la seconda guerra mondiale quindi uscire da una sfera di influenza non è facile quindi è complicato e bisogna anche dire le cose onestamente se esistono delle basi militari americane ci sono i militari americani in italia perché gli americani hanno vinto la guerra e noi l'abbiamo persa prima della fine della seconda guerra mondiale non c'erano militari stranieri in italia ci sono stati anni precedenti secoli precedenti appunto perché dirò delle invasioni straniere in italia questo è il concetto quindi è molto complicato questo per dire che se no dire fuori dalla nato eccetera diventa pure uno slogan che non è semplice c'è da costruire prima tanto altro allo stesso tempo vi dico che per me si può dipende un po dalla postura esiste anche la possibilità di stare all'interno di determinate realtà che hai subito perché le hai subite fondamentalmente anche in modo diverso ci sono dei paesi che stanno in maniera diversa io difficilmente ho visto governi italiani più sudditi degli americani del governo draghi del governo meloni onestamente è sintomatico sai di draghi dell'aspetti amico della dirigenza di black rock uomo del capitalismo finanziario uno che ha lavorato per colman sachs te l'aspetti meloni che diceva certe robe anche sulla sanzioni alla russia te l'aspetti un pochino cioè io me lo aspettavo comunque perché su questo se l'ho sempre definito una conformista però comunque certa gente se l'aspettava di meno quindi la tua domanda è sì è complicato c'è tutto secondo me la prima cosa è da costruire della consapevolezza rispetto a determinate tematiche perché poi alla fine non si fa niente senza la collettività senza la pubblica opinione che comprende determinate cose altrimenti si fanno le manifestazioni inventi dicendo delle cose ci diciamo le cose tra di noi eccetera eccetera dunque il modo migliore per convincere le persone su determinate storture è lavorare costantemente utilizzare le giuste strategie politico mediatiche per fare una giusta un'opera giusta di proselitismo che non è un insulto come non è un insulto né ideologico né interesse nazionale ancora di meno per citare inizio della tua domanda vi è stato un momento in cui se ci pensate non esisteva l'unione europea come esiste oggi che anche lì avete ragione ad avere a portare avanti delle critiche magari anche di più più pungenti rispetto a quelle che che porto avanti io rispetto all'unione europea che poi tra l'altro sta crollando proprio sulla base delle proprie contraddizioni e vi dicevo ci vuole del tempo ci vuole tempo e stavo dicendo questo nonostante fossimo lo dico anche nel monologo più vicini alla seconda guerra mondiale dunque da puntista temporale a quel momento che ci ha fatto perdere la sovranità è vero che non esisteva quest'unione europea che poi è estremamente legata agli interessi statunitensi lo sappiamo però la nato esisteva c'era la guerra fredda eppure vi erano dei politici capaci di lavorare per l'interesse nazionale in modo migliore maggiore di questi di oggi nonostante ci fossero i soldati i militari americani sul nostro suolo i servizi segreti americani la strategia della tensione a me nulla mi toglie dalla testa che alcune operazioni siano state fatte le sapete no la storia di gladio tante altre robe che si studiano siano state fatte anche da servizi segreti stranieri io penso questo ecco era quel mondo eppure c'erano dei politici dicevano ecco no l'eni non l'eni si crea e l'agip non si scioglie mi dispiace ma questa guerra non ci partecipiamo mi dispiace ma io da fare affari in un'unione sovietica pure se c'è non so il mondo divisi in blocchi la guerra fredda gianni agnelli andò gianni agnelli cioè il capitalista per eccellenza italiano andò a firmare accordi su accordi con la nomenclatura sovietica per creare le fabbriche fiat anzi per vendere la conoscenza e il know how fiat ai sovietici che hanno poi creato le fabbriche di tagliatti grad la regione del volga se non sbaglio una città appunto e prende il nome da togliatti hanno prodotto macchine sovietiche la gigouli o tante altre che erano identiche alle macchine fiat ci hanno togliatti e facendo scusate gianni agnelli l'avvocato enrico mattei fece accordi su accordi con i sovietici andava a parlare con gli iraniani con gli algerini mentre un paese nostro alleato che faceva parte all'alleanza atlantica e la francia combatteva contro l'indipendentismo algerino tant'è che ci sostiene che siano stati proprio i paramilitari francesi a organizzare l'attentato che ha accostato che ha ucciso enrico mattei quindi come dire io non sono dell'idea di o esci oppure non puoi fare nient'altro rispetto alla nato per esempio puoi anche diciamo avere determinate posture e comunque va fatto un lavoro importante che come la la goccia che buca la roccia ci vuole del tempo per convincere le le pubbliche opinioni le masse come dire di restitù a a prendere posizione e a comprendere la realtà nella quale stiamo vivendo e quello che stanno diventando perché poi vedete fino a che c'era un determinato benessere certi diritti economici e sociali era più complicato no ribellarsi in un determinato sistema oggi l'astenzionismo è una forma di ribellione criticatela quanto volete ma una forma di di ribellione eccomi un tempo era come dire vi erano esisteva l'ideologia i comunisti la mia famiglia di cita castellana una cittadina vicino viterbo si producono ceramiche dove erano tutti comunisti tutti eppure quel sistema che era un sistema capitalistico stavamo all'interno appunto del blocco occidentale consentiva agli operai di comprarsi casa e di mandare i figli in vacanza un mese all'anno in deleggiatura e lavorava solo una persona dentro casa era quel sistema lì forse anche perché gli diritti economici e sociali c'erano erano garantiti ristrazione pubblica numero di ospedali rispetto alle cliniche private oggi gli istituti sanitari privati stanno superando gli istituti pubblici tutto quel lavoro veniva fatto anche perché dall'altra parte al di là appunto del della cortina di ferro c'era un altro mondo occhio che quel mondo rischiamo di trovarcelo qui forse abbiamo un partito comunista più più grande dell'occidente dunque evitiamo no è un po se ci pensate nel meccanismo il governo monti che abolì i vitalizi prima dell'arrivo del movimento 5 stelle no aboliamoli perché se no questi arrivano anziché il 25 per cento prendono il 40 pensate quanto è importante anche in questo senso la pubblica opinione perché davvero concludo ragazzi alla fine quello che ho visto con i miei occhi che i politici alla fine sono come dei capitalisti di se stessi in un certo senso degli imprenditori di se stessi cioè alla fine l'interesse di voti perché senza le rielezioni vanno a casa se qualcuno quello più importante i più importanti si vanno a piazzare le partecipate di stato oppure in qualche ruolo nel golfo eccetera eccetera però tanti altri vanno a casa dopo che però meno loro perché io poi restituivo gran parte il mio stipendio però dopo che passi anni cinque anni in cui ti senti Gesù Cristo perché mandi comunicati stampa lavori se vuoi diciamo imboscarti ti puoi imboscare lavori dal martedì pomeriggio a giovedì pomeriggio credetemi ti intaschi un sacco di soldi diecimila euro c'hai i privilegi c'hai i treni gratis tutta queste robe e dopo cinque anni tornare nella vita reale per il tanno trombato ti duole e così come se ci pensate anche il sistema liberal capitalistico che tu pensi che sia come dire impostato sono indeterminata visione del mondo ma se alla fine non è più conveniente quel tipo di visione del mondo perché pervi appunto pensate il boicottaggio di israel o di prodotti o delle aziende che aiuta israele per me questa roba è davvero importante se riuscissimo a farla tutta io nel mio piccolo lo sto facendo perché poi ascoltano queste robe ascoltano più questo delle minchiate di Biden che dice però adesso Netanyahu va a Cipiano dopo che la settimana scorsa gli ha dato un sacco di armi dunque anche i politici in un certo senso non per coscienza magari forse qualcuno ma più per convenienza sono costretti una volta a prendere a prendere la retta via altrimenti la strada che sarebbero costretti a intraprendere è quella di casa e nessuno vuole tornare a casa tranne rare eccezioni ma sono i pazzi e non si ricandidano chiaro chiarissimo alle grazie mille grazie mille per questa questa conversazione chiaramente se arriveranno altri nostri inviti però vediamo qualche qualche giorno di riposo in bocca al lupo per il vostro lavoro ma speriamo di conoscerci poi face to face presto certo certo grazie a tutti anche gli spettatori e ci vediamo alla prossima puntata ciao e buona giornata a tutti ciao a tutti ciao ciao